Il 24 novembre 2023 comincia la Biennale di Milano. La Biennale è un'opera d'arte in sé che contiene e promuove l'arte e la cultura di 42 paesi nel mondo. La cultura e l'arte in questo momento devono fare da ponte tra quei paesi che in questo momento faticano a trovare la luce nei canali della normale diplomazia. L'arte e la cultura sono i vestiti della nostra umanità e sono il nostro tesoro più grande. Ringraziamo Salvo Nunez per lo sviluppo di questo bellissimo progetto e ricordiamo a tutti il 24 novembre la Biennale di Milano. Grazie per la visione!